ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie game play ita siamo giunti all'episodio 2 la parte 2 del tutorial della costruzione della satsuma voglio iniziare prima di tornare in garage e cominciare col montaggio del motore a voglio mostrarvi che cosa dovete acquistare io sono venuto qua in nave perché non ho ancora il van però nel mentre lo aspettiamo possiamo iniziare appunto a montare allora la prima cosa che ci servono sono i freni l'olio dei freni quindi 1 2 3 4 olio dei freni un olio motore poi se volete compratene due giusto per essere sicuri magari se sbagliate qualcosa e l'olio va perso lo rimettete dopodiché uno di coolant una batteria o due io ne prendo una al momento un filtro dell'olio perché quello che avete è già distrutto una confezione di candele due lampadine da auto che è un'aggiunta che hanno fatto e poi qua appesa c'è la cinghia cinghia sì quindi 4 di olio 4 di olio farini scusate uno di olio normale una batteria un filtro dell'olio una cinghia un coolant due lampadine e una confezione di candele in totale sono 1500 ricordatevi poi di acquistare io questo che questo perché venendo in il motoscafo l'imprevisto sempre dietro l'angolo ok vado ad acquistare ora inizierà la durissima menata del trasporto di ogni singola cosa direttamente la la barca quindi voi non curatevi di questo ma ci ritroviamo direttamente in garage ok eccoci eccoci a casa ora iniziamo col montaggio del motore il motore potete anche color decidere di colorarlo un pochino per vederlo meglio io adesso me lo tengo così arrugginito insomma iniziamo a lavorare al motore la prima cosa da fare è prendere blocco metterlo sul tavolo e poi andare a prendere led gasket chiamato così che è questo qui questa copertura ed gasket che mettiamo dalla parte dei cilindri quindi qua vediamo di ok eccolo lì sono parti senza viti queste adesso io vado a prendere perché mi serve il il mio blocchetto di cacciaviti e iniziamo il lavoro ok apri qua perfetto una volta messo led gasket mettiamo l'engine plate che questa parte qua questa parte qua va messa di lato adesso ok eccola lì quindi possiamo prendere il motore e metterlo in una posizione un po più comoda per il lavoro adesso lo mettiamo detto così perfetto ora si inizia ad avvitare dobbiamo prendere il camshaft che non so se l'albero cam insomma è comunque questo il camshaft si mette in mezzo al motore cercare ecco la cosa più ostica almeno all'inizio e capire la direzione in cui va messa una cosa quindi eccola qui dopodiché lo andiamo a fissare si fissa di lato eccolo lì quindi prendiamo delle viti del 5 ok la vite più più piccola e abitiamo queste due parti qua una nota da fare ve l'ho già detto nel video scorso e ve lo dirò anche probabilmente nelle nei prossimi video perché non si concluderà qui sicuramente ci saranno altri due tre video ancora almeno tutorial le parti iniziali che vi vengono date non sono nuove e hanno una percentuale sono probabilmente anche molto basse quindi se volete fare un lavoro definitivo o almeno per un po di tempo compratevi dal meccanico i vari pistoni perché quelli potrebbero essere danneggiati tranquillamente quindi la macchina si romperà a breve ma questo è normale previsto dal gioco se volete un gioco dove vi fate tutto e tutto funziona subito non è il gioco che fa per voi prendiamo il crankshaft lo montiamo che questo albero che deciderà poi le le rotazioni del dei pistoni una volta montato il crankshaft prendiamo i bearing che sono tre questi qua l'uno il due e il tre e li andiamo a a piazzare qua in sostegno del di questo albero quindi abbiamo tre punti dove fissarlo uno al centro uno all'inizio e uno dopo cerchiamo di capire dove vanno messi mentre quando il gioco ci dice ok questo è uno andiamo a prendere stando sempre chinati questo dovrebbe essere quello centrale adesso lo andiamo ad avvitare con viti 9 mm sono due per ogni blocchetto quindi andiamo a fissarle 12 sempre meglio diminuire un pochino la sensibilità del mouse in questo caso così evitate di scappare scappare via ok una due tre quattro cinque e sei bene fatto questo andiamo a montare la parte successiva che sono i famigerati i pistoni sono quattro pistoni eccoli qua l'uno il due il tre il quattro iniziamo dall'uno che andrà messo cerchiamo di metterli dalla parte giusta quindi prenderli per così poi ci distorta il gioco ma va bene 1 una volta inseriti i pistoni prendiamo la vita del 7 cacciavite del 7 e andiamo a fissare i due bulloncini su ogni pistone sono due per quattro pistoni quindi fissiamoli molto importante fare questa operazione con precisione e non lasciarli allentati perché i pistoni poi si rompono ed è una menata poi andare a smontare tutto il motore io mi sono fatto questo quadernetto per il tutorial che mi servirà anche nel momento in cui dovrò andare a riparare la macchina ora abbiamo la coppa dell'olio da montare che la oil pan che va montata sotto il motore ovviamente eccola lì ok per montare la oil pan mi servono viti sempre da 8 viti da 7 quindi quella che ho già montata e abitiamo tutte queste viti sono sette se non sbaglio no sono 8 4 per lato eccole qua una due tre stai fermo 4 cosa poi molto importante è montare anche la l'ultima vite che è quella che poi vediamo qua davanti questa grossa ce n'è una ancora qua eccola lì nascosta comunque voi basatevi su quello che vi dico sono 8 sono 8 cercatene 8 poi altra cosa la vite la chiave numero 13 per avvitare questo che è molto importante perché sennò riesce l'olio nel momento in cui mettete qua andrà dentro l'olio adesso iniziamo montare tutto il reparto del cambio quindi prendiamo queste parti qua che sono il clutch pressure plate il clutch cover plate e il clutch disc e vanno uno all'interno dell'altro e vanno a formare in pratica la frizione una volta fissata la frizione frizione montiamo il volano flywheel definito anche che è la parte che prenderà comunicare direttamente con il con il cambio allora vediamo se di qua no va montato da questa eccolo lì e per montare il volano il flywheel ci serviranno sei viti 8 mm quindi 8 andiamo a fissarle tutte 8 tutte 6 scusate non è mi correggo chiave numero 7 chissatelo bene perché questa è una parte delicatissima del motore volano che poi andrà ad agganciarsi alla scatola del cambio frizione scatola del cambio ok montato il volano montiamo la frizione con chiave da 6 prendiamo la frizione che abbiamo assemblato poco fa la montiamo allora abbiamo detto sperando sia sempre giusta questa cosa chiave da 6 quindi 8 7 6 vediamo se ci siamo 1 ok 1 2 3 4 avvitate bene tutto 5 e 6 ok frizione montata ora arriva il momento di una delle parti più costose di un motore che è la gearbox che è la scatola del cambio quindi la scatola del cambio si va a montare qua di lato vediamo se ok scatola del cambio che poi vabbè una delle parti nuove aggiunte con una patch è stata la il la cover per il la frizione che adesso devo cercare eccola qua è abbastanza nascosta ed è la parte che va a coprire il disco della frizione quindi in modo che è un modo diciamo a motore montato di ispezionare lo stato della frizione adesso lo posiziono bene così e poi andiamo a piazzare anche questo ok fatto questo andiamo a fissare la gearbox con 6 viti da 7 mm quindi 6 7 6 viti da 7 mm e una da 10 allora inizia una da 10 mm e un casino trovarne infatti vedete che questa me l'avevo persa quindi sono 3 di qua 3 di qua quindi abbiamo detto 6 più una da 10 mm quindi prendiamo la 10 e va montata qua eccola lì quindi 3 e una qua su questo lato piccolino qui fissata la gearbox dobbiamo montare la drive gear la drive gear è il collegamento per il cambio il pomello del cambio e lo andiamo a posizionare qua in questo foro ok il drive gear lo posizioniamo e lo fissiamo bene con 7 viti con 7 viti con chiave 6 quindi 7 viti con chiave 6 quindi 1 sono 6 qua la ricontrollate sempre 1 2 3 4 5 e 6 e la settima qua questo bulloncino ok montato il drive gear giriamo pagina e andiamo al car shaft gear che va montato sul lato opposto allora il cam shaft gear va montato qui ed è tutto quello che andrà poi a gestire le cinghie vite da 10 e avvita lì una sola in questo caso ok vedete che è ruota adesso qua è molto importante molto importante fare una cosa infatti è importante che questa vite vedete che fa ruotare il motore il motore va fatto fatto combaciare con una stanghetta che al momento però non si vede eccola qua questa quindi dovete far combaciare la stina del motore di questa rotella qua con questo ok vedete che adesso tecnicamente dovrebbero combaciare quindi combaciano quindi devono combaciare queste due stacchette stanghette qua a questo punto mettiamo la timing chain la cinghia ok ora la timing chain cover che è questa che va a coprire la zona della ok sempre trovare il punto giusto di fissaggio eccola lì e la timing chain cover la fissiamo con sei viti con sei millimetri quindi la vite la penultima sei viti quindi quindi una due tre quattro cinque e sei adesso pompa dell'acqua la water pump che è quella della fuel dove è la water pump eccola qui che si inserisce in uno di questi fori qua oddio eccola lì la water pump sette millimetri cinque viti quindi prendiamo una misura superiore sette cinque viti quindi una tra l'altro è emozionante fare tutto questo perché poi tutto questo poi funzionerà e ci darà un sacco di problemi tra l'altro 1 2 3 4 e poi la quinta che dovrebbe essere qua eccola lì ok fissata bene ok la water pump è stata montata ora la puleggia della pompa dell'acqua water pump holly eccola qua che va fissata con quattro viti a occhio direi sì sempre da sette millimetri quindi fissiamo anche questa una due tre e quattro perfetto fissata questa abbiamo il crankshaft poi lei la puleggia dell'albero a camme che va montata qua quella si fissa con una vite sola da 11 in una misura che non si usa tantissimo che è questa da 11 e la fissiamo ok il motore ora l'alternatore che appunto andrà a caricare la batteria durante sfruttando la rotazione del motore e questo non mi ricordo mai dove avevo montato eccolo lì ok l'alternatore si monta con una 10 millimetri 10 avvitiamo il l'alternatore adesso dobbiamo fare una cosa allora montiamo la cinghia che abbiamo acquistato al negozio che è questa qua viene una parte arrivano delle parti mica male adesso perché bisogna fare attenzione montata la cinghia a questo punto dobbiamo prendere montata la cinghia dobbiamo spingere l'alternatore del tutto verso la cinghia ok quindi bisogna spingere questa cosa qui vedete la spingiamo verso la cinghia del tutto non va più giù di così quindi siamo sicuri che vedete che fare un gioco al momento è al massimo fatto tutto si torna indietro di due uno e due a posto a questo punto con il cacciavite fissiamo questo spessore quindi prendiamo il cacciavite e andiamo a fissare questo spessore qui con la vite a questo punto non ce lo porta più via nessuno adesso montiamo il distributore perché qua alla fine questa vite qui non serve a nulla ci servirà dopo in seguito allora montiamo il distributore che è qua e va nel foro ok va nel foro come vi dicevo il foro questo montato il distributore lo fissiamo anch'esso col cacciavite vedete che ci sono le viti quindi uno due tre avvitiamo del tutto adesso no no si dovrebbe essere una vite sola una vite soltanto si fissata questa montiamo l'olio il filtro dell'olio il filtro dell'olio va montato su questa stanghetta qui stanghetta quindi questo questo sa vita a mano è l'unica componente del motore che si avvita a mano quindi tac e poi a mano lo si avvita allora vedete per me girando la rotellina lo andiamo a fissare fissato quello dobbiamo mettere lo starter lo starter c'è un'altra cosa importante da tenere in considerazione che adesso vi faccio vedere lo starter è il motorino di avviamento ed è importante sapere che il motorino di avviamento va avvitato solo in un punto adesso vi faccio vedere allora qua qua sotto si monta il motorino a questo punto bisogna avvitare una vite da 7 mm quindi riprendiamo il nostro mezzo per avvitare e va avvitata la vite in alto allora vedete sono vedete che c'è una vite qua che avvito la seconda questa sotto tecnicamente non va avvitata perché ho avvitato solo questa qua dietro questa qui non va avvitata perché sarà importante per il collegamento elettrico che faremo dopo quindi ho avvitato soltanto questa dopodiché dobbiamo andare a montare il cylinder head quindi questa va montata la testa del motore la cylinder head fissata con 10 viti da 7 mm quindi abbiamo già il cacciavite giusto abbiamo 10 viti 5 per lato le avvitiamo nel mentre facciamo questo lavoro facciamo sempre caso in alto a sinistra i nostri parametri vitali evitare di morire montando il motore ok montata la cylinder head abbiamo il rocker shaft da montare quindi prendo già la chiave da 8 perché mi serviva quella da 8 comunque la cylinder shaft scusate la rocker shaft è questa che non so esattamente cosa siano siano dei bilancieri insomma comunque sono 5 viti da 8 quindi 3 4 5 qua ci sono delle regolazioni da fare ma al momento in proposito non ho trovato niente ne vedremo più avanti a questo punto a questo punto prendiamo le candele le candele sono 4 nella confezione ce ne sono 4 quindi possiamo buttare la scatola ora prendiamo le candele vanno montate in questi fori qui è indifferente l'ordine ok ci vuole un po' di pazienza poi dopodiché prendete un po' di dimestichezza col gioco e imparate adesso montiamo la come si chiama la rocker cover quindi la copertura che è questa se in realtà io avevo recuperato quella gt ma vabbè che è un po' più bella da vedere comunque che se ne frega montiamo anche questa copertura che io temo dovremmo prendere la breve 7 mm quindi per basti intendo dire 6 viti da 7 mm adesso io continuo a abbassarmi ok e avvitiamo una due tre di là ce ne sono altre tre una si o si va a tentativi o si gira il motore due e tre ok sei in totale qua sopra poi metteremo l'olio che va giù e poi si accumula sulla coppa dell'olio sul fondo a questo punto prendiamo la chiave per le candele che è questa spark plug socket le spark sono le candele e avvitiamo le candele giriamo il mouse su ogni non esce nessun simbolino quindi bisogna proprio sapere quello che si sta facendo quindi andiamo qua e avvitiamo questa parte qua poi si aggancerà a quei cavi che avevamo lasciato volanti la volta scorsa però quello vedremo ora iniziamo a volgere al termine di questo secondo video montando la pompa del carburante la fuel pump la fuel pump è questa va montata a fianco del filtro dell'olio che è qua ok la fuel pump si monta con due viti da 7 mm direttamente montate sulla pompa quindi riprendiamo il nostro 7 mm e si avvita eccoli qua i due bulloncini ok poi dobbiamo montare gli headers gli headers gli headers sono quelli dell'impianto di scarico quindi diciamo che aver giocato un po' a car mechanics simulator mi ha aiutato un pochino a distinguere le varie parti del motore collettore di scarico per la precisione dovrebbe essere dove in pratica tutto lo scarico e l'ingresso dell'aria viene gestito da lì e viene avvitato con cinque viti da otto quindi tac 8 mm una ce ne sono due per tubo laterale quindi uno due uno due e una sola al centro per la vite questo tubo centrale qua basta non ci dovrebbe essere altro montato le headers montiamo il carburatore 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 che tecnicamente vanni maceria mi perdonerà ma spero funzioni per tanto tanto tempo abbiamo quattro viti da 8 mm in questo caso quindi montiamo il carburatore abbiamo sempre quella da 8 quindi sono quattro viti quindi eccole qua una carburatore serve a miscelare aria e carburante in vari modi in varie proporzioni in modo da favorire o meno prestazioni o che altro carburatore messo andiamo a montare il filtro dell'aria due viti da 6 mm inizio già a prenderle e prendiamo il filtro dell'aria che dovrei avere nascosto da qualche parte eccolo qua lo montiamo sopra e due viti e lo fissiamo immediatamente il motore inizia a prendere forma adesso abbiamo concluso questa parte di tutorial quello che faremo nella prossima sarà montare il motore perché poi inizierà a diventare abbastanza pesante e andrà caricato sulla caparetta insomma come si usa definire la cosa che vi dico è mettete il motore qui con lato del orientato verso proprio il pistone il lato del filtro dell'olio a questo punto andate ad abbassare col tasto sinistro del mouse e col tasto adesso scusate tenendolo fermuto a un certo punto abbassandolo vi si creeranno adesso vedete che ho sbagliato che devo metterlo più in qua comunque una volta che siete giusti e avete abbassato abbastanza compariranno dei bulloni qua sulle due catene speriamo se ce la faccio ok vedete vedete adesso sono comparsi due bulloni uno qua e uno di là e quindi lo andiamo a fissare sono due bulloni da 10 quindi sono bulloni abbastanza grossi non grossissimi però comunque li andiamo ad avvitare quindi uno è qui uno e il secondo è qua una volta che l'avete fissato poi il motore inizierà a galleggiare quindi potremmo andare ad alzarlo quindi inizia a prendere forma vedete che comunque anche gli scaffali sono piuttosto vuoti quindi stiamo arrivando alla fine manca ancora tutto il serbatoio impianto di scarico insomma e tutta la menata più grande è il cablaggio elettronico nel prossimo episodio andremo a bilanciare le gomme le gomme le dovete recuperare quello c'è un video dedicato insomma che avevo fatto mesi fa in cui si recuperano le gomme dalla casa abbandonata di notte è meglio in modo che non perché ci sono le api che vi uccidono di giorno di notte no invece dormono e raddrizzeremo le gomme faremo la bilanciatura delle gomme c'è un metodo che poi vi farò vedere metteremo l'auto qui o porterò fuori il motore insomma lo monteremo e cableremo il tutto pronti per la prima accensione con questo io vi ringrazio vi rimando al prossimo episodio e alla prossima ragazzi ciao 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 ciao